Si respirava sdegno e incredulità ieri durante la Commissione Lavori Pubblici del Decimo Municipio quando il Consorzio di Bonifica, Tevere e Agroromano ha comunicato che Via Ostiense e Via del Mare sono ancora chiuse al traffico per la mancata manutenzione stradale del verde. Gli interventi del Consorzio si sono conclusi il 27 aprile, riferisce il consigliere PD Atos De Luca, ma la Via del Mare è ancora deviata poiché il Decimo Municipio e il Dipartimento Simu di Roma Capitale non sono riusciti a liberare la carreggiata dalla vegetazione. C'è da domandarsi di cosa si stia occupando l'assessore all'ambiente se non riesce neppure a fare un intervento così semplice, conclude De Luca. Rincara la dose Maria Cristina Masi. Finché la Via Ostiense non verrà messa in sicurezza non si potrà procedere con la riapertura, spiega la consigliera di Forza Italia. L'amministrazione era a conoscenza del problema dalla fine di aprile, ma finora non si è provveduto a creare le condizioni per il ripristino della viabilità. Intanto, dopo la morte della motociclista di 26 anni, il Comune ha annunciato un investimento di 7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del tratto urbano di Via Ostiense, mentre 8 pini verranno presto abbattuti per ragioni di sicurezza su Via dei Pescatori.